Vieni! Brava! Che brava! Brava! Adesso va e poi torna, tutto da sola! Vieni! Vieni, vieni! Vieni, Bubi! Brava! Ciao ragazzi e ciao ragazzi! Nuovo vlog, penso l'ultimo prima delle vacanze Ho comprato un po' di cose, adesso vi faccio vedere cosa ho comprato Vi faccio anche una haul in questo video E vi voglio far vedere un po' di prodottini E vi voglio anche salutare perché poi a una certa andremo in vacanza Vi dico però quando Vi dico che su Caritas Shop stiamo facendo durare quanto più possibile le spedizioni Perché in tante comunque volete prodotti prima delle vacanze Noi penso che riusciremo a spedire fino il 14 Fino al 14 alle 2 Tutti gli ordini arrivati entro il 14 alle 2 Il 14 agosto li spediamo Dopodiché anche i corridi vanno in ferie Quindi il sito rimarrà attivo Quindi voi potete comprare sempre Sempre potete fare gli ordini Anzi comunque vi conviene farli Anche se il 15-16 volete comprare Vi conviene farli Perché quando ritorneremo dal 27-28 agosto Inizieremo a spedire in ordine di arrivo Quindi il primo ordine che è arrivato Tipo il 15 Lo spediremo il 27 Quindi in ordine di arrivo Man mano spediremo gli ordini Quindi poi vi arriveranno Magari se avete ordinato il 15-16-17 Vi arriverà dopo qualche settimana E non subito come siete abituati Dopo 2 giorni Quindi questo è quanto Quindi vi conviene di ordinare Il più presto possibile Così vi arriva il pacco Adesso prima delle vacanze Rifornitevi di tutto quello che vi serve Io ho rifornito un po' tutti i prodotti Su Caritas Shop I vostri best seller che vanno sempre a ruba Ci sono anche saldi Ci sono tanti sconti Quindi approfittate Fate grandi spese Vi metto anche la maschera in omaggio Sto mettendo la maschera per ordini superiori a 99 euro Sapete che metto sempre un regalino E stavolta è la maschera viso Idratante Purificante Che è fantastica Con la pilloffa Basta che scrivetele le note Omaggio maschera E io ve la inserisco nel pacco Cos'altro di Quindi rifornitevi Che le cose stanno finendo Poi vi ripeto Se no non ce la facciamo A farvi arrivare Prima delle vacanze Io ho l'ansia C'ho sempre l'ansia Perché voglio che rimanete contente Comunque ragazzi Praticamente qua È mancata la corrente Io sono senza trucco E mi sto mettendo le cremine Vi voglio far vedere Questi prodottini Che sto usando adesso Per l'estate Perché intanto Mi dite questa cosa Carita consigliami qualcosa di fresco Per l'estate Perché non ce la faccio A mettermi creme pesanti Allora Questo qua è il siro All'acido ialuronico Ed è fantastico Ragazzi Perché È un siro Molto molto fresco Nel frattempo Non so se sentite Che sta tipo tuonando Cioè Sto tempo è pazzo C'è il sole Fa caldo E fanno i tuoni Cioè La fine del mondo Sta arrivando Comunque ragazzi Questo siro Vi metto tutti i link Dei prodotti Che vi mostro Nel box info sotto Questo è un siro All'acido ialuronico Ed è favoloso Io lo amo Ed è una delle poche cose Che riesco a tollerare Perché fa caldissimo Questo è un gel Quindi praticamente Si assorbe in fretta Ha un buon profumo Ed è freschissimo E in più Elimina tutte le imperfezioni Le impurità Vi fa una pelle Super luminosa E bella Quindi ve lo straconsiglio Lo amo È super fresco Già si è asciugato Un'altra cosa È questa qua Questa è L'emulsione Anti acne Questa qua Ve la straconsiglio Ragazze Per tutti voi Che avete problemi Di brufoli Acne Impurità Questa è un'emulsione Quindi è molto Molto liquida Subito si assorbe È fluida E va benissimo Da usare come base Il trucco Quindi Elimina i brufoletti Le impurità I segni post acne Ed è molto Molto leggera Proprio liquida Quindi subito si assorbe Potete truccare Oppure potete andare al mare La potete mettere di giorno E di sera È veramente favolosa Ed elimina È proprio Specifica per l'acne I brufoli Le impurità Quindi Pelle grasse mista È ottima Un'altra crema Che è quella Che io metterò adesso Che vi straconsiglio È questa qua Questa è la crema purificante Di Apiarium Ragazze Io l'amo Questa crema È favolosa Una delle mie creme preferite In assoluto Questa qua È la crema purificante Quindi praticamente Serve proprio per I punti neri Le imperfezioni Le impurità Ed essendo molto Fresca No? Per pelle mista E grassa Subito si asciuga Quindi ve la consiglio Per base trucco Adesso d'estate Che volete qualcosa Di leggero Vedete? Subito si asciuga Perché praticamente Oil free Elimina i punti neri Le impurità Ragazze È favolosa Tutte le ragazze Che l'ho consigliata Si trovano da Dio E non vogliono usare altro Perché è veramente favolosa Elimina i punti neri I pori dilatati È proprio ottima Molto fresca Un profumo di menta Ve la straconsiglio Come base trucco Oppure prima di andare al mare Come crema a giorno Subito si asciuga Ed è purificante Quindi anti impurità Contorno occhi Questo qua La bava di lumaca Ragazze ve lo straconsiglio E questo qua E anche questo È molto fresco Ed elimina Tutte le occhiaie Le rughettine Dietro c'è Pupi che sta bevendo Non so se la vedete Eccola Piccola Bevete molto Con questo caldo Ragazze E ne fate po' Avete capito Che io sto senza corrente Quindi sto senza condizionatore Senza ventilatore Sto schiattando Sto schiattando di caldo Ragazze Sto poco schiattando di caldo Comunque avete visto Subito si assorbe Illumina tantissimo Lo sguardo Questo qua La bava di lumaca Ve lo consiglio Vi metto il link Nei box info Anche di questo qua Ragazze E provatelo È molto molto buono E poi Un'altra cosa Che vi volevo straconsigliare È questa maschera Perché questa maschera Hydra skin È da tante Nutriente illuminante È una maschera Che va messa sul viso E Praticamente ottima Tipo quando tornate dal mare Che avete il viso Un po' arrossato Oppure Se volete prevenire Dal detersore Le macchie Le rughe La secchezza della pelle Mettete questa qua È anche molto piacevole Perché è molto fresca Verla in viso Un quarto d'ora La potete mettere anche Sul contorno occhi Su dei coltè Perché è molto Idratante Illuminante E rimpolpante La lasciate in posa Tipo un quarto d'ora Poi vi sciacquate La pelle è super liscia Luminosa Ravviva un sacco La bronzatura Fa effetto tipo Glow illuminante Io l'amo E ve la straconsiglio La faccio tipo Anche ogni giorno Quando torno dal mare È il mio rituale di bellezza Un'altra cosa Un po' bella È questa crema Che ancora non vi avevo Fatto vedere Di questa linea Che la vendiamo tantissimo Su Caritas Shop Che profuma di mango È proprio pensata Per l'estate Questa è una crema Vedete come È gialla È troppo bella Sembra di spalmarsi Una cosa alla frutta Perché è ricca Di estratti Questa è una crema Che ravviva la bronzatura Come tutta questa linea Abbiamo anche la crema viso Quello per il corpo Questa è per le mani A parte il fatto Che essendo pensata Per l'estate Subito si asciuga E veramente Lascia le mani Freschissime E ha un profumo Stupendo Di mango Io la amo tantissimo In più Ravviva l'abbronzatura È proprio Ha un leggero potere Autoabbronzante E illumina tantissimo La pelle Guardate Già si è asciugata Questa è la mia crema Mani dell'estate Infatti me la porto anche al mare Me la metto in borsa Me la porto sempre dietro La amo un sacco Io posso Inossessionata Dalla crema per le mani Perché le mani Si invecchiano Quindi io Metto la crema Tutti i giorni Per prevenire Questo processo Anche per contrastare Le macchie solari E l'invecchiamento Della pelle Va bene Questo profumo Stupendo Per di questa linea Ragazzi Vi volevo far vedere Anche questo Questo è troppo bello È uno scrub Illuminante Che prolunga L'abbronzatura Sul corpo È favoloso A parte il fatto Che ha un profumo Pazzesco ragazzi Ha un effetto Sia tonificante Sul corpo Sia levica Tantissimo la pelle Infatti lo faccio Sempre prima di andare al mare Perché Uniforma L'incarnato Raviva L'abbronzatura E in più Prolunga L'abbronzatura Quando poi Vi esponete al sole Prende meglio L'abbronzatura Viene più uniforme Ed elimina anche Tutti i peli incarniti È favoloso Questo scrub corpo Ha un profumo Di mango Buonissimo Ve lo straconsiglio Sembra Sembra di Non spalmarsi La frutta È troppo bello Rituale di bellezza Proprio Che io Amo Tantissimo È proprio Rinfrescante È fantastico Anche di questo Vi metto il link Nei box Info sotto Per acquistarlo Vi faccio vedere un po' Delle cose che ho comprato E che vi faccio Dopo vi faccio vedere Alcune buste sono anche qua Altre sono sopra Qui c'è la mia borsa E la palestra Sembra che è scoppiata una bomba Devo sistemare E qua c'è Pupi Pupi Che fa caldo E va girando Per tutta la casa Adesso vi faccio le cose Ho comprato queste cose qua E anche tante altre cose Stradivarius Yamamite Zenis Vabbè Bene cose Grazie Mi sono tutta preparata Tutta di rosso Sto fissata col rosso Ultimamente Comunque mi sto preparando Tutti i miei integratori E le cosine Che adesso Mi porto a dito Adesso vi faccio vedere Sono troppo troppo felice Perché mi sorpresa Questo nuovo Di food spring Voi sapete che io Utilizzo tutte le cosine Food spring Appunto per stare in forma Integrazione Cibi bio Naturali Molto sani Avevo questo qua Come shaker Mi sorpresa questo Che è troppo figo Praticamente dopo sotto Ci puoi mettere anche le capsule E sopra ti fai lo shake Di proteine Oppure di prodotti Sostitutivi dei pasti E voi sapete che uso tantissimo Queste qua La carnitina Che la carnitina serve tanto Per bruciare i grassi E per accelerare il metabolismo E stare in forma Ragazze Io le prendo da un po' di tempo E ve le straconsiglio E questi qua I deli vitamini Sono degli integratori di vitamine Tipo un multivitaminico Li prendo ogni giorno Poi prendo anche l'omega 3 E tutti gli integratori Di food spring Li prendo tutti Ragazze E adesso da qua Mi prendo le mie cose Da portarmi dietro Per la merenda Vedete Io li uso Praticamente tutti i prodotti Di food spring Questo è buonissimo È lo shake shake Alla vaniglia Che hanno fatto Anche alla nocciola E al cocco Ragazze Sono buonissime Che hanno fatto Anche al cocco Ed è buono 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 E adesso Mi voglio preparare Uno shake Di proteine Per portarmi dietro Perché Sto prendendo sempre Le proteine Sapete per l'integrazione E io comunque Vi straconsiglio Prodotti food spring Perché veramente Sono i migliori Soprattutto se vi allenate Se avete uno stile Di vita sano Sono prodotti Veramente sani Naturali Che quando li utilizzi Comunque il corpo cambia Io ho visto proprio Il mio corpo Snellirsi E diventare più tonico Più muscoloso Più bello E poi sono prodotti Anche buoni Andate a fare un giro Sul sito food spring E avete Lo sconto Con il mio codice sconto Carlita Y Di 25% Di sconto Per le prime 10 persone Che comprano E poi sempre Il 15% Di sconto Quindi potete approfittare Facendo Provando questi prodotti Ragazze Ve li straconsiglio Vi metto il link Nei box info Appena tornati Dalla spesa Io sto sistemando Tutte le cose Adesso vi faccio vedere Cosa ho comprato Sono tante cose Buone Sempre sane Insomma Per mantenersi in forma Adesso vi faccio vedere Tutte le cose Che ho comprato Nel frattempo Sta tuonando Cioè Sto tempo è pazzo C'è anche Pupi Nella solita Sua posizione A pecorina Allora Salmone Affumicato Qua c'è il formaggio Primosale Che a me piace tantissimo Con le olive Questo è il bracciale Summer Vibes Ragazze È stupendo Io me lo metto sempre Tra l'altro Abbiamo rifornito Bracciale Collana E cavigliera Eccola qua La cavigliera E non penso Che succederà Mai più Perché poi Se ne parla A settembre Quindi Affrettatevi A prenderli E Appunto La collana E questa qua Finalmente È tornata disponibile Sta andando a ruba Quindi non so se ci sarà ancora Controllate Sul sito E ho preso La Bresala Anzi questo è Carpaccio E lupini Che sono ricchi di proteine Salmone affumicato Questo qua Il salmone naturale Siamo andate Siamo andate al Selex Che è aperto vicino A casa nostra È bellissimo Su supermercato Poi ho preso Queste verdure Che sono naturali A volte Quando non ho tempo Di preparare le verdure Me ne tengo in frigo Oppure tipo Manca la corrente Come è successo Questi sono dei burger Che io considero Verdure però Perché sono fatti Estrullamente con verdure Ho trovato Questo pane integrale Selex La prima volta Che lo vedo Che ha dei buoni valori E non ha neanche Quella parte di cornicione Che io odio Questo mousse di cilice È buonissimo ragazze E poi Questa è una cosa Che ho scoperto Ultimamente Praticamente Il tonno leggero Cioè Per chi non piace Il tonno naturale Però Quello Invece Quello là Con l'olio È pieno zeppo d'olio È grassoso E comunque Non è sano Questo hanno fatto Questo tonno nuovo Dove c'è Un filo d'olio Infatti c'è giusto Un filo d'olio E ragazzi È molto molto buono A me piace tantissimo Sto mangiando sempre questo Perché c'è giusto Un filo d'olio Extravergine Però Non è stopposo Come quello naturale È molto buono Ho preso il mio solito Albume Questi sono carini Per quando Tipo mi porto le insalate Le cose sono fuori Olio d'oliva La simmental Che non è sana Però io a volte Ci tolgo la gelatina E me la mangio Perché è buona Con limone Basilico Le fragole Questo è il mio latte di cocco Lo sapete Lo bevo sempre Insalate di tutti i tipi Anche Zucchini a julienne Queste sono altre verdurine Mi faccio un sacco Le uova bio I pomodorini E poi qua C'è il pesce Che adesso vi faccio vedere Ho preso gli spedini Di pesce Qui ci sono buonissimi Fatti con tonno Salmone Calamari Sono troppo buoni Le faccio alla piastra E qua È l'orata Praticamente ho preso due orate E me le sono fatte sfilettare Lo stiamo mangiando sempre così Il pesce Perché così è meno spinoso Perché a Dario Non piacciono le spine E con due gamberettini Che boh Ragazze Perdonatemi se Nei vlog Comunque vi faccio vedere Sempre in casa Eccetera Però Praticamente Tipo se Quando usciamo con gli amici O comunque andiamo In qualche posto bello Non mi metto là a registrare Quindi cerco di Staccare Perché comunque Mi voglio godere i momenti E quindi Magari su Instagram Più condivido le storie Però Adesso Con la videocamera No Cioè Noi usciamo quasi tutte le sere Con gli amici Andiamo a mare Facciamo le cose Quindi ci divertiamo un sacco Non mi metto là con la videocamera Una storia a volo Ok sì Però i video no Sto cercando di fare più video utili Tipo prodotti anticellulite Ho fatto quello del make up Insomma Piuttosto che Nella mia vita Cerco di godermelo un po' di più Questo e quanto Comunque tra poco Partiamo Quindi questo Penso debba essere L'ultimo video Che poi riprenderò Direttamente a settembre Con i video O forse ce ne sarà un altro Un altro video Tra qualche giorno E poi basta Invece Carita Shop Resta sempre aperto Il sito Quindi potrete sempre comprare E anzi Noi spediremo Fino al 14 Spediremo in giornata Fino al 14 agosto E poi dal 15 in poi Faremo partire i pacchi In ordine di arrivo A fine mese A fine agosto Quindi comunque Continuate a ordinare Anche il 15 16 Sempre Perché prima ordinate E prima spediamo i vostri pacchi A fine mese Quindi questo è quanto BASIC ragazzi eccomi qua per mostrarvi i miei ultimi acquisti allora se volete sapere che rossetto indosso che il mio trucco eccetera guardate nel box info che vi metto tutti i link ai prodotti che ho utilizzato allora da Yamamai ragazze ho trovato queste fantastiche ciabattine che vi giuro appena ciabattine sono tipo dei trampoli no vabbè adoro sono fantastiche perché praticamente servono per il mare sono tipo di gomma rosse no vabbè c'erano anche gialle e fucsia le adoro non sono bellissime le ho pagate 29,95 poi ho preso queste qua sono varie marche allora questo qua è un topo che ho preso da Stradivarius troppo troppo carino è un po' corto in vita l'ho preso così e anche bianco che adesso non so dove sia comunque vabbè l'ho preso anche bianco poi ho preso questo qua questo l'ho pagato al 50% con i saldi di Pirex l'ho pagato quindi 29,50 invece di 59 euro ed è un pantaloncino tipo per la box sembra qua c'ha i brillantini è troppo troppo carino a me piacciono queste cose un po' mascoline così poi ho preso queste scarpe di questa marca che io non conoscevo Stephen Code London comunque mi piaceva un sacco anche queste le ho prese scontate guardate come sono belle cioè non sono stupende no vabbè adoro praticamente sono delle scarpe che sono fatte così tipo di stoffa questo un po' elastico qua escono i piedi e sono così no vabbè io poiché odio i miei piedi mi piacciono le scarpe che le coprono il più possibile e vabbè sono pazzesche queste scarpe comunque adoro fatemi sapere se vi è un po' aggressiva tra l'altro la metterò sotto a quest'outfit che dopo vi faccio vedere e questa sera andiamo al sushi con gli amici e poi ho preso queste qua queste sono di rocco barocco anche queste qua scontate le ho trovate troppo carine le ho prese subito sono rosse e hanno tipo la gomma sotto a come sono carine le ho prese tipo da metterle di giorno comunque per andare al mare sono troppo carine è vero vi piacciono ragazzi adesso vi faccio vedere il mio outfit ragazzi questo è il mio outfit con questi shorts e questo top vedete sopra che avevo preso da Guess ve l'avevo detto nel video acquisti questo è di Guess e questo invece il top è sempre di Guess Marciano però non sono bellissime adoro però ragazzi sono molto comode stranamente questo è il mio outfit vi piace? ti piace amore? si 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 buongiorno ragazzi siamo qua in camera da letto di pupi ci siamo da poco svegliate vi volevo dire che oltre ai prodotti che vi ho consigliato nel mio ultimo video sui prodotti anti cellulite mi sono dimenticata voi andate a vedere il video l'avevo dato tanti consigli contro la ritenzione la cellulite caricato qualche giorno fa quasi è sbeccata un'unghia vi volevo dire che mi ero dimenticata di consigliarvi anche questo qua questa è una cosa che io sto amando tantissimo in questi giorni lo sto usando tanto perché con questo caldo ragazzi ho delle gambe gonfissime proprio le gambe si gonfiano sapete quando avete le vene capillari le gambe si gonfiano la ritenzione la cellulite questo è favoloso è un gel super super rinfrescante specifico proprio per gambe e vene quindi che quando lo metti subito ha quella sensazione di freschezza di sollievo le gambe si sgonfiano diventano più snelle anche contro le vene i capillari anche contro la cellulite la ritenzione perché contiene tutti estratti tipo di centella rusco ipocastano proprio ottimi contro la ritenzione la cellulite il gonfiore delle gambe e io ce l'ho sempre sul comodino praticamente la sera quando torno che tipo ho le gambe stanche pesanti e di tutto mi fanno male talmente del caldo magari ho portato i tacchi mi faccio un bel massaggio con questo dal basso verso l'alto quindi dalle caviglie verso l'alto simbola tantissimo la circolazione quindi migliora tantissimo la circolazione quindi toglie il gonfiore la cellulite tutti i problemi anche le vene tutto e poi la sensazione piacevole subito di freschezza freschezza sollievo gambe più snelle veramente favoloso e questa sensazione di fresco è piacevole proprio bello massaggiarsi lo sto massaggiando mattina e sera poi non lo so rimane anche questo colorito che sembra che ravviva anche la bronzatura perché un colore ovviamente naturale dato dagli estratti e le tinture presenti appunto gli estratti vegetali comunque ragazzi è favoloso vi metto il link per acquistarlo su carlita shop perché li ho tutto valido questo prodotto quindi acquistatelo vi metto il link nel box info è un prodotto che ho rifornito su carlita shop per voi quindi lo trovate disponibile vi metto il link nel box info sotto per acquistarlo perché è veramente valido secondo me come prodotto e soprattutto in questo periodo dell'anno quindi ne ho riforniti un po per permettervi di acquistarli sul mio shop online ragazze è favoloso non ho una sensazione di freschezza le gambe che non immaginate top e tu che fai amore amore che fai andiamo a fare la colazione la la pappa la pappa no lei le vorrebbe sempre dormire mi amore da gucci questa è la borsettina che voglio comprare io è bellissimo l'adoro amore amore vieni bubi brava è il primo anno ragazze che si butta a mare da sola e fa il bagno con noi tutto il tempo è il terzo anno che viene a mare Pupi per due anni l'ho messa io in acqua e lei tornava a Riva adesso viene, torna e viene da sola, è incredibile, è una gioia grandissima guarda di mamma, ti piace ruotare? e poi è bevuta, è vero che è bevuta Pupi, vai da Dario, vai! Vai, dai, andiamo! Brava! Ragazze, usate sempre la protezione solare in spiaggia anche quando già siete abbronzate perché vi previene le macchie, le rughe e vi fa durare l'abbronzatura più a lungo vi abbronzate di più con questi solari, ve li straconsiglio e li trovate ovviamente su caritashop.com vi ho fatto anche un video dedicato, io li amo li uso sempre sempre sempre, profumano di cocco e sono buonissimi acquistateli su caritashop, andate a vedere il video che ho fatto vi ho spiegato tutto, sono favolosi vi ho spiegato tutto, sono stati meravigliosa giornata trascorsa oggi al mare con i miei amori ovviamente c'ho tutti i gioielli Carlita Jewel, ve l'ho già detto che la collana è tornata disponibile la summer vibes già sta finendo, anche il bracciale e la cavigliera adesso andiamo a cena, vi sono già messa tutte le cremine abbronzanti, autoabbronzanti vi ho fatto tutto vedere nel video, andate a vedere, vi ho fatto il video sui solari autoabbronzanti vi ho fatto il video su tutti i prodotti anticellulite caricati pochi giorni fa sul canale quindi andate a vedere, adesso andiamo a cena, io penso che vi saluto ah oggi ho fatto altro shopping, allora queste sono le buste praticamente oltre agli acquisti da Gucci, alla fine abbiamo dato da Gucci se mi seguite su Instagram vi ho chiesto dei consigli, ho comprato alla fine quella cosa più altre cose è stata anche da Stradivarius, oggi ho comprato altre cosine tra cui questa bella tuta che è stupenda comunque fatemi sapere se volete un altro video, faccio giusto un'eccezione anche se questo doveva essere l'ultimo e vi faccio vedere gli acquisti da Gucci e le altre cosine, ho trovato un sacco di cose carine tra cui questa bellissima tuta e niente, fatemelo sapere, vi mando un bacio grande e ci vediamo a questo punto al prossimo video, anche se questo doveva essere l'ultimo vabbè, e poi vi saluto e buone vacanze ciao 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 ciao